e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video volevo ufficialmente comunicarvi che i pappagallini sono arrivati tra l'altro questo sono io e eccoli qua raga no non è vero questo è Cleopatra guardate quanto è bella abbiamo appena fatto la siringa mentre questi sono loro guardate che bello uno e due sono una coppia vedi là sopra c'è anche il loro nido che si devono costruire da soli sono molto bellini e più avanti loro praticamente dovranno mangiare tipo una sostanza rossa per mantenere il piumaggio guardate quanto sono carini ora dobbiamo fare una protezione a loro due tutti e due le gabbiette e li andiamo a mettere praticamente li andiamo a mettere fuori nel mio terrazzo questo sono io wow bella per me e nulla raga volevo comunicarvi questo ovviamente si chiamano Bonnetini perché così ha vinto la maggior parte nel sondaggio e detto questo ci salutiamo quindi spero che vi piacciono scrivetemelo nei commenti e ciao al prossimo video grazie a tutti